Di nuovo insieme care marchigiane, care italiane, ben ritrovati, ben ritrovati dopo questa prima ora e un quarto piena piena di notizie. Andiamo un pochettino più lenti con più spazio per le pagine interne dei giornali, più spazio anche per i vostri messaggi, più spazio anche per il meteo, anche se fortunatamente c'è poco da dire del meteo visto che la settimana sarà piacevole con temperature da estate di San Martino e senza precipitazioni così che anche gli eventi, gli appuntamenti di questi giorni possano essere godibili ai più. Buongiorno Maurizio, ancora peggio degli automobilisti e camionisti col cellulare alla guida, ci sono tanti autisti di bus pullman e persino uno scuola bus, guarda uno che guida uno scuola bus e utilizzasse il cellulare va licenziato seduta a stante visto che porta bimbi dietro che manco hanno le cinture di sicurezza per un cortocircuito concettuale in base al quale un bambino nel panico fa più fatica lucidamente a togliersi la cinta e quindi negli scuola bus questa è una roba che mi... da 19 anni siamo in diretta e da 19 anni la ripeto è una roba che non mi sconfinfera proprio. Ma andiamo ai giornali, va torniamo sui giornali, questa è l'edizione marchigiana maceratese per la precisione. Farmacie comunali in tre anni soltanto 67 mila euro di utili, malissimo nel 2020 e nel 2021, pesano i pochi servizi erogati durante la pandemia, le attività in aree densamente popolate come Corso Cavour, Via Pace, Piedi Ripa, insomma le farmacie, le tre farmacie comunali sono in perdita. Pagine che andiamo a sfogliare insieme per andare anche alla zona della Tolentinate, Biumor che celebra i dieci anni di festival, filo show di Lucrezia Ercoli al Vaccai. A Tolentino due giornate di eventi, al Politeama la videoproiezione con le opere selezionate. Questo anche per darvi qualche dritta sugli eventi culturali. Truffa del resto al bar, l'avete mai sentita? Denunciati due furbetti, tentano un raggiro a muccia, smascherati grazie alle spycam. I due si erano presentati in un bar di muccia, sentite come funziona la truffa del resto. Si erano presentati in un bar di muccia per acquistare delle sigarette, creando un attimo di confusione, avevano cercato di far credere alla cassiera di aver già pagato i tabacchi con banconote di grosso taglio, attendendo appunto che venisse dato loro il resto grosso e spalleggiandosi a vicenda, dicendo uno dei due, sì sì l'ho visto questo signore che le ha dato 100 euro. La cassiera era stata pronta però ad opporsi e ad allontanare i furbetti che poi si erano dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Ma grazie alle telecamere sono stati beccati. Funziona così? Per chi ci segue magari e dà la titolarità di un bar, se uno arriva e dice oh guarda che ti ho dato 50 euro per il caffè, non mi dai il resto? Ma non è vero, questi 50 euro non mi risultano. Arriva un altro che dice sì sì io l'ho visto questo signore che le ha dato 50 euro. Probabilmente sono complici, non sicuramente o può essere anche che uno paga un caffè 50 euro. Ancora notizie, vi porto ora a Civitanova, accoltellamento per gelosia. L'imputato patteggia un anno. L'aggressione era avvenuta lo scorso agosto in un distributore di carburante. Aggredì un'albanese a coltellate perché lo aveva visto parlare con l'ex compagna. Ieri un 46enne originario di Torre del Greco ha patteggiato un anno di reclusione. Ancora sfoglia che sfoglia, arriviamo fino a Recanati. Bretella a squarta bue alla rush finale entro l'anno potrà essere aperta. Stop al traffico caos così nella zona industriale. Un intervento atteso da anni. Per l'albero di Natale più bello invece Porto Recanati punta ad un contest. Cartellone ricco di eventi per le festività. L'annuncio di Stimilli. Preparatevi amiche e amici di Porto Recanati. Ci sarà la possibilità di gareggiare. L'albero più bello potrebbe vincere. Osimo intanto prepara il cartellone di Natale. Crestina d'Avena darà il via alle feste. Il concerto il 16 dicembre. Maxi luminarie, villaggio e pista di ghiaccio con un budget di 100.000 euro. Anche qui si aprirà la polemica. Troppi spesi invece di dare una mano a chi sia in difficoltà. Il Natale va celebrato. Il momento delle feste fa celebrato. Che cosa ne pensate? Cristina d'Avena. Budget sui 100.000 euro per il cartellone. Questo ad Osimo. Ritorna invece l'incubo del terremoto a Montelparo. Che paura. Qui non finisce mai. Epicentro. Con la gente che scende in strada. La scossa avvertita. In tutte le marche eppure in Umbria. Tanta paura. Brutti ricordi che corrono al passato. Una scossa 3.9 di magnitudo ieri pomeriggio alle 17.17 che ha riportato i marchigiani e le marchigiane nell'incubo. Che fenomeno è stato? Cosa dobbiamo aspettarci? Tanti chiedono questo. Magnitudo e profondità così estendono l'allarme. Perché? Perché la magnitudo è stata importante. 3.9 non è cosa da poco. E poi il fatto che sia, spiega Carlo Meletti, sismologo della sezione di Pisa, degli NGV, il fatto che sia stato abbastanza superficiale ha portato una quantità enorme di comunità che hanno percepito. Buongiorno. Torno da voi. Vacca è meglio. Buongiorno. Di ritorno da Milano. Bel tempo su tutto il tragitto di ritorno ad Acqua Santa Terme. Un saluto da Angelo. Ah, con un po' di nebbia, vedo, caro Angelo, però l'importante è che torni sano e salvo nella nostra bella amata regione Marche. Anche ad Enrico Mazzaroni è stata confermata la stella Michelin il Tiglio a Monte Monaco. Saluti d'Ascoli, lo conosco bene, tra l'altro Enrico. Mi permetto di chiamarlo amico. Enrico, giocone di parole, era in una foto, se non erro, poco fa, l'ho visto? L'ho visto, me lo ricordo. Mamma mia, mi preoccupo. Mi inizio a preoccupare. Vediamo se la preoccupazione aumenta. Sì, era in una delle foto legate alla manifestazione che ha visto le marche protagoniste in quel di Parigi. Adesso finché non ci arrivo vi porto a queste immagini. Ci arriverò, la troverò, la troverò la foto, ma tra i festeggiati di questa bella iniziativa c'era pure proprio lui, uno chef che ha deciso di riportare il gusto e le eccellenze nell'entroterra, nell'entroterra meravigliosa della nostra terra di Marche. Eccola qua. Senigallia, la città delle stelle. Uliassi e Cedroni confermano rispettivamente tre e due stelle, ma che fatica, ammettono pure loro. Eccoli qua, i protagonisti della grande cucina gourmet alla marchigiana, che hanno confermato il successo Michelin. A Civitanova, qualche messaggio da amici di Ancona, di Offagna, ma perché se lo vogliono prendere, cioè ragazzi, Gimbo è di tutti. Gimbo è una stella italiana, certo che le sue origini sono marchigiane, tra Offagna, Ancona, un po' dove ha studiato, un po' dove i genitori, un po' dove è nato. Insomma, in consiglio a Civitanova si valuta la cittadinanza onoraria per l'oro olimpico e mondiale. Io credo che debba solo che far piacere a tutti coloro che vogliono bene Gimbo, quale che sia la nostra provenienza, che riceva questi riconoscimenti. Buongiorno, per cortesia, mi potete fare gli auguri 50 anni ad un amico, Massimo Marinelli, da Castelferretti. Grazie. Caro Massimo Marinelli, 50 anni, tanti tanti auguri, come no, da parte della nostra redazione. Ero con il Corriere un attimo fa ad inquadrare la tabella della Tari. Perché ha macerata e aumentata così tanto? Allora, questa intanto è la grafica. La spesa a famiglia per la tassa sui rifiuti. Spicca. Il Fermano, dove addirittura c'è un calo della Tari dell'1,6%, quindi si paga meno dell'anno scorso. Ad Ancona la variazione è 0,1%, quindi siamo lì. In negativo, invece, spicca il più 4% di costo per il cittadino della Tari a macerata. Aumento del 3,7% ad Ascoli e Pesaro, aumento del 2,1% in provincia di peso, in questo caso per il comune di Urbino. La media fa il 2% di aumenti. Perché questi aumenti? Insomma, i rifiuti purtroppo ancora oggi non sono una risorsa, sono un costo perché vanno conferiti, vanno differenziati e nelle zone dove è aumentata, guarda caso, ci sono più problemi e polemiche in termini di gestione dei rifiuti, smaltimento dei rifiuti, le discariche che ci sono, che non ci sono, che mancano, nuovi progetti, eccetera. Anche per quello c'è questa conseguenza. 250 euro l'anno di media a famiglia. Poco fa da Castelfidardo mi segnalavano 350 euro per tre persone. Tanta roba. Ambretta, buongiorno. Carla Ferretti, buongiorno. Cristiana Rapacci, anzi Cristina, pardon, Cristina Rapacci, le farmacie dovrebbero fare orario continuato 8.20 e non un orario di un normale negozio. Grazie Cristina che interviene così sulla questione delle farmacie comunali di macerata che hanno utili flop. Era questo il giornale che avevo sfogliato più di altri. Adesso faccio lo stesso esercizio per Ancona e Provincia. In primo piano piazza d'armi a ostacoli, altro ricorso della ditta. Ma noi tiriamo dritto. È questa una battaglia giudiziaria per la costruzione del nuovo mercato coperto che era stato abbattuto inizialmente ancora durante, anche prima dell'inizio della campagna elettorale che ha visto poi la vittoria del sindaco Silvetti. Poi cosa è successo? Perché si è fermato tutto? Una battaglia giudiziaria per la costruzione del nuovo mercato coperto. Il Comune assicura affideremo lo stesso lavoro entro il 4 dicembre. Parco del Conero, nuovo presidente, la regione ha scelto, nominato Luigi Conte. Seguirò il solco di Silvetti, lui lo ha rilanciato. La città invece è una lavagna per i writers e i fidanzati rimangono in silenzio. Scarabocchi a San Pietro dalla coppia, nessuna proposta di pulizia. Intanto i disegni aumentano. Purtroppo sono stati beccati, rai da ripetizione. Sarebbero due ragazzi, i colpevoli, un operaio e una studentessa. Beffato una novantenne. Qui un attimo mi soffermo via i risparmi di una vita che lui, poverino, ha 90 anni, prima di andare a raccontare le sue storie agli angeli, voleva lasciare i nipotini. Patteggia la consulente infedele. Un anno e mezzo all'operatrice si era offerta di aiutare l'anziano per l'apertura di libretti di famiglia. In realtà i soldi che lei diceva all'anziano, guarda versali qui così li troveranno i tuoi nipoti, in realtà erano le sue tasche. Quello che dice il giornale è questo. Si era rivolto a una consulente del lavoro per poter investire i risparmi in dei libretti famiglia da aprire all'Inps, fidandosi di lei le avrebbe girato dei bonifici. In realtà quei soldi poi sono spariti. Falconara, Sonia, fiuta il panetto di Ashish, minorenne nei guai per spazio. Sono i controlli della finanza e della dogana al Sanzio con il cane antidroga Sonia. Il ragazzo minorenne è stato denunciato. Complimenti ai nostri amici a Quattro Zampe che sono tanto tanto utili. Osimo che prepara il cartellone di Natale. Cristina D'Avena darà il via alle feste. Un po' di polemiche le abbiamo già registrate. Il concerto il 16 di dicembre. Qualità tavola. Mense scolastiche top a Iesi. Iesi che sfiora il podio. Quarto posto in Italia per qualità. Oggi parliamo anche di cose belle. Dai, Paoletti di Iesi Servizi. Gongola, percorso potenziato con l'acquisizione del centro di cottura centralizzato. E questo migliora il servizio piuttosto che portare i piatti freddi e poi scaldarli in loco. Volo dal tetto dell'abitazione. Un ottantenne muore in strada. Shock a Pianello Vallesina. Inutili i tentativi di soccorso. Un ottantenne di Pianello è deceduto dopo essere precipitato dal tetto della sua abitazione. Alla tragedia ieri mattina intorno alle 9 per causa in corso d'accertamento. L'anziano è volato cadendo violentemente sul selciato sottostante. A 80 anni c'è chi c'ha anche scritto com'è possibile togliersi la vita a 80 anni. Allora, intanto non è sicuro. Non è detto che sia stato un estremo gesto. Potrebbe essere stato un incidente. Poi comunque a volte purtroppo il male di vivere ti colpisce e non dipende dalla carta d'identità. Fabriano, sciopero generale. Grido ed allarme FIOM. Noi a rischio desertificazione industriale. Crisi dell'elettrodomestico strutturale. Parla Pullini. Servono interventi straordinari. Bisogna rottamare le cappe che sono stati per anni un punto di riferimento. CGL Will a proposito di sciopero. Da Fabriano al nazionale. Salvini precetta. Il vice premier riduce lo stop di dopo domani, venerdì, a quattro ore, non per tutta la giornata, ma dalle nove alle tredici. Landini si scaglia contro il governo e uno sgarbo ai lavoratori. Noi andremo avanti. Che cosa ne pensate? Fateci sapere. Intanto ricordatevi appunto di questo disagio legato allo sciopero generale. Nelle piazze lo show videomapping, poi la pista di ghiaccio e le casette. Anche Senigallia si prepara al Natale, definiti dal Comune i dettagli del pacchetto di iniziative per il Natale. Ci sarà anche il cielo stellato che anni fa aveva spopolato. Ad Osimo troppi soldi per Cristina d'Avena, ma non sono 100.000 euro per Cristina d'Avena. Cristina d'Avena avrà un budget, certamente, ma per Osimo il budget totale è di 100.000 euro, se non ho capito male. Aveva fatto una cena a quattro mani. Buongiorno, eccolo con il mio grande chef. Sì, è lui, è il nostro amico. Mio figlio Antonella ci scrive. Mio figlio con il grande chef. Con una cena a quattro mani al Tiglio, ora Stella Michelin. Nell'entroterra questa eccellenza. Grazie anche per questo Amarcord, una mamma orgogliosa che suo figlio abbia cucinato insieme ad uno chef stellato. Scontro all'incrozzo, si ribalta con l'auto. Guardate questa immagine incastrata nell'abitacolo, viene soccorsa. Ferita anche l'altra donna al volante alla cesanella. Un nuovo ufficio mobile per la polizia locale sarà utile per evitare anche questi incidenti. Una donna è rimasta incastrata ieri all'interno della propria auto che si è ribaltata dopo uno scontro. È accaduto verso le 10 all'intersezione tra via Cimabue e via Lippi nella zona industriale della cesanella. Niente scuole il sabato, un sondaggio per decidere. Ci siamo già spostati a Marotta. È un esperimento che alcuni genitori apprezzano molto perché così il sabato è libero, altri un pochino meno perché l'orario infrasettimanale si allunga proprio in coppa a il turno di lavoro. È la proposta di alcuni genitori delle medie FA di Bruno sottoposta a voto. Decideranno i genitori a scuola fino a sabato o tutto il weekend libero. I genitori degli alunni dell'istituto FA di Bruno di Marotta saranno chiamati i prossimi giorni a scegliere gli orari più consoni. Una situazione nella quale ci siamo trovati anche io e la mia dolce signora per la figlia 2. Buongiorno Maurizio. Noi a casa siamo due persone pensionate. La taria è di 545 euro. Altro che quello che dice il giornale. Ma si sa a Falconara purtroppo le tasse sono più alte che in altri comuni. Ormai siamo rassegnati e in C. ci scrive Stefano da Falconara. Stefano, due pensionati 545 euro mi pare una roba esagerata. Io fosse in te chiederei un ricalcolo. È legittimo, è gratuito chiedere un ricalcolo della tua posizione. Perché sta cifra mi colpisce. A meno che tu non abiti in un castello. Quindi anche la metratura dice la sua. 545 euro per due persone mi pare onestamente troppo. Andiamo ora. Fammi sapere perché ci tengo, ci tengo. Andiamo ora di nuovo alla zona di Macerata perché ieri il rettore di un IMC Macaurt ha fatto un intervento molto forte proprio qua nei nostri studi per parlare della situazione tra Israele e Hamas. Ne parliamo poco, è vero. Buongiorno da Roma. Intanto 23 gradi. È caldo, sì. grazie. È l'estate di San Martino. Ne parliamo poco del dramma israelo palestinese perché purtroppo ci sono pochi aggiornamenti da fare. Continuano i bombardamenti, continua la situazione difficile negli ospedali. Cosa fare per risolvere? Bisogna fare un cessate il fuoco. Sentiamo le parole di Macaurt che a un certo punto dice purtroppo è più facile fare la guerra che fare la pace. Io seguo la linea della conferenza dei rettori italiani e la linea della conferenza abbiamo tutti quanti insieme e di nuovo anche parlato di questo problema. Insieme condanniamo senza appello la guerra, la guerra in tutte le sue forme, condanniamo gli atti atroci commessi dal Hamas e condanniamo anche la risposta dello Stato di Israele e del governo attuale di Israele. Noi abbiamo per fortuna dei collegamenti, non tantissimi, ma dei collegamenti con delle università dalla parte israeliana e anche dalla parte palestinesi. Io sono dell'opinione che l'università per definizione è un luogo di dialogo e il dialogo si fa anche con chi non vai d'accordo. Il fatto di mantenere una linea di dialogo con un'università non vuol dire che apprezzi tutto quello che fa lo Stato in cui quell'università si trova. Per il momento la nostra linea è di continuare pur condannando gli atti violenti che vediamo, ahimè, ogni giorno che non porteranno a nulla di positivo. Con ogni atto di violenza si crea, ahimè, dei militanti degli estremisti di entrambe le parti. Si rischia di fomentare ulteriore odio. Sì, e questo è quello che stiamo vivendo tragicamente ogni giorno e va fermato in qualche modo. La pace si fa con un cessato del fuoco che è urgente e necessario e con l'inizio di un dialogo. Io da irlandese che sono cresciuto con una guerra in patria nell'Irlanda del Nord ho visto lo sforzo enorme che è stato fatto per creare una pace, con dei compromessi, con delle rinunce, con la necessità di sedersi con persone con cui non hai niente da condividere, ma in qualche modo è l'unica strada. Dobbiamo conoscerci meglio, conoscere chi è diverso da noi per cercare di capire. Non ci sono soluzioni e non è facile, ci mancherebbe. La pace non è facile, certamente, però è l'unica vera strada. Stranamente la guerra è molto più facile. Purtroppo sì. Questo è il messaggio di grande saggezza purtroppo che ci arriva dal rettore dell'Università di Macerata, tra l'altro irlandese. Ricorderete gli anni di guerre, fratricide, l'Ira, gli attentati, l'Irlanda del Nord, insomma una storia che per fortuna in quel caso è finita senza più spargimenti di sangue. Ci scrive un amico da Marotta, proprio a proposito delle scuole, che era l'ultimo tema, l'ultimo articolo trattato, niente scuole il sabato, sondaggio per decidere la proposta di alcuni genitori delle medie, fa di Bruno sottoposta al voto. Lo recupero perché ci scrive proprio questo amico, scuola Marotta, dalle 7.50 alle 13.50, Roberto Frattini, con due merende portate da casa senza mense, è una tortura, non un orario a tempo pieno. Grazie Roberto che così commenta e quindi mi fa capire cosa voterà nel caso delle scuole il sabato, da togliere il sabato. Probabilmente il nostro amico Roberto voterà per il no. Dopo aver sfogliato il maceratese lanconetano vi porto alla zona di Ascoli, Fermo, San Benedetto. Per dare dettagli rispetto a quest'area, in primo piano l'alloggio, prezioso come l'oro, affitti più cari di media di 100 euro. Lo confermano gli agenti immobiliari dell'Ascolano. Disponibile un appartamento ogni 10 richieste. Il centro storico oramai è saturo. Il mercato immobiliare sotto le 100 torri vive un momento particolare con i tanti lavori di ristrutturazione degli edifici a causa del super bonus, ma anche con i tanti casi di persone che ancora non riescono a rientrare nella propria casa post-sisma, mancano gli appartamenti e quanto meno c'è di un bene, di un prodotto, tanto più c'è la domanda e tanto più c'è la domanda di un prodotto, tanto più quello costerà. È un po' questa la legge di mercato. Ci sono più di 600 famiglie ad Ascoli ancora sfollate che usufruiscono del CAS, cioè il contributo di autonoma sistemazione. Intanto, sempre da Ascoli, demolito il ponte sul torrente Bretta. È prevista una pista ciclopedonale. La Rengo istituisce un gruppo di lavoro per individuare la migliore soluzione per gestire la sosta. In questi giorni di ponti abbattuti ne abbiamo parlato tanto. Il ponte Garibaldi di Senigallia ne è un esempio. Ancora notizie stavolta da San Benedetto. Il caso Talamonti e il bilancio uno tsunami sul comune perché la minoranza vuole coinvolgere il prefetto. Zanieri valuta provvedimenti. Ancora notizie dalla zona del San Benedettese. Gli sfilano la sedia. Cade di schiena studente soccorso in classe dal 118. Quello che voleva essere un banale scherzo ha rischiato di diventare un dramma. Apprensione alla scuola Cursi. Il ragazzino finisce al pronto soccorso. Attenzione a certi scherzi. Lo sfogo dei genitori. Le sirene dell'ambulanza davanti alla scuola media hanno fatto saltare il cuore in gola alle persone che stavano camminando in zona. Gli operatori sanitari della Croce Verde sono usciti dal plesso con un ragazzino di 12 anni steso in barella ma cosciente accanto alla mamma col volto oscuro e preoccupato. Cosa è successo? Il classico banale ma anche mi permetto stupido scherzo della sedia sfilata anche perché se uno sbatte la testa ragazzi non si scherza. Questo era un focus veloce veloce sulla zona di Ascoli. Ora vi porto all'area del Pesarese passando sempre da voi. Falconara metri quadrati 65 292 euro di Tari. Mamma mia, dico subito, aggiungo ma quanti siete in famiglia? Prima mi colpiva, si parla di Tari, oggi mi colpiva poco fa la testimonianza di un amico di Falconara che dice siamo in due pensionati 500 e passa euro di Tari. Arriva un'altra segnalazione 65 metri quadrati 292 euro pure è una cifra pazzesca. Quanti siete però in famiglia? Perché pure quello è un fattore, è un indicatore. Eccolo qua, rifiuti. La media è di 250 euro l'anno a famiglia ma la Tari delle Marche comunque resta la più economica d'Italia. Mi pare altresì che ascoltando certe cifre a macchia di leopardo non si possa proprio festeggiare. C'è chi arriva a vette davvero importanti. Ecco qua il pesarese, amiche e amici, Villa Marina Sport sbloccata l'on pass, in 4 si fanno avanti. Chiuso il bando emesso dal comune, adesso si valuteranno le offerte. Due, le strade percorribili o la gestione del complesso oppure la sua vendita. Ancora la manovrina d'autunno, un tesoretto a Pesaro da 3 milioni e 200 mila euro, risorse e destinata a lavori pubblici, manutenzione e cultura. Quando arriva Cristina d'Avena ad Osimo dovrebbe essere il 16 di dicembre a Osimo. 100 mila euro di budget, poco o troppo fateci sapere. Una cifra più o meno che abbiamo trovato anche in altri comuni. Saccheggia la chiesa e ruba le offerte, ma al processo il parroco lo perdona. Siamo ancora a Pesaro. Per il ladro il sacerdote ha invocato la misericordia di Dio rimettendo la querela in udienza. ha rubato le offerte in chiesa, rovistando nei locali parrucchiali, ma in tribunale ieri nell'udienza di apertura del processo il sacerdote ha perdonato il ladro invocando la misericordia di Dio. Il fatto risale al 17 di gennaio. Ci spostiamo verso la zona di Urbino. Urbino Servizi, mai chiesto la rinuncia della Presidente. Michelli respinge l'accusa dell'opposizione sul suo ruolo nella vicenda di Giulia Volponi. Quindi una questione legata alle partecipate. Ladri in due case. Attenzione a Fermignano. Nella seconda costretti alla fuga. La prima abitazione messa a soquadro. Bottino ancora da quantificare. Nel secondo caso se ne sono scappati. Se la sono data a gambe. Il centro laniero di nuovo nel mirino dei ladri di appartamento. Torna la paura a Fermignano. Due alle abitazioni a 10 centi. Entrambe in condominio in via Loreto. Visitate dai ladri nel pomeriggio tra le 18 e le 18.30 di lunedì. Quindi in pieno giorno. Adesso anche un po' favoriti dalle tenebre. Perché oggi col cambio dell'ora alle 18 è buio. Agevolazioni per l'Atari. Il fondo anticrisi non basta. Il comune stila una seconda graduatoria per gli aventi diritto fuori dal budget. Arrivano i rimborsi relativi alla tassa sui rifiuti. Ma non per tutti. Il numero delle domande infatti ha superato i fondi a disposizione. Quindi l'amministrazione comunale ha deciso di stilare una classifica dei richiedenti e di applicare loro le esenzioni. Finché le risorse saranno a disposizione. Altra brutta. Bruttissima storia. Ancora d'affano. Ubriaco. Picchia e violenta la sua ragazza. Condannato anche per altre aggressioni. Perde la testa per un tatuaggio. Le strappa un piercing. Non posso pensare al dolore. Tre anni e quattro mesi di carcere e anche 30.000 euro di risarcimento. Violentata in auto dopo la discoteca. Ieri la sentenza di condanna per il suo aguzzino. Torno un attimo per cercare di consolarci un pochettino al meteo. Anche per confermarvi che l'estate di San Martino, quando il mosto si fa vino, che continuerà a farsi sentire in termini positivi. Temperature minime sui 10 gradi oggi. Massime sui 20 gradi sempre oggi. Giovedì 16 novembre. Situazione analoga. Forse un pochettino più freschino. Ma venerdì, sabato e domenica continuerà questo piacevole trend. Torno un attimo. E così anche chi ha piacere di vivere le iniziative del weekend lo potrà fare senza il rischio di portarsi dietro l'ombrello. Torno un attimo al tema di ieri pomeriggio. Il tema è quello del terremoto nelle marche scossa a magnitudo 4.0 epicentro a Montelparo. Non è che non stia rispondendo ai messaggi. Tanti che chiedono ma c'è stato qualcos'altro, ci sono stati danni. Ho già spiegato, ecco, perché leggo meno. E poi, secondo, non vorrei scatenare un effetto panico, perché il panico non serve a niente e a nessuno. La paura serve. La paura ti serve per essere lucido, concentrato, per non essere superficiale. Il panico, che ha la versione è la sorella cattiva, il panico è il fratello cattivo della paura, non serve. Però comunque, per rispondere a chi dice, ma c'è stato anche qualche altro fenomeno, cosa dobbiamo fare, eccetera, eccetera. Allora, intanto, ieri, vi confermo, 17.17, magnitudo 3.9, epicentro Montelparo. C'è stato un altro paio di scosse più leggere, una alle 21.59, l'altra alle 23.31, rispettivamente. Una a Montelparo, la seconda più tardi nella sera a Monte Rinaldo, sempre nel Fermano. Questa mattina c'è stata un'ulteriore scossa, un pochettino più importante rispetto alle ultime due, sempre sulle Marche, alle 5.07, nella zona di Monte Cavallo. Eccolo qui, l'epicentro. Danni non sono segnalati e rispetto a chi chiede adesso cosa dobbiamo fare, nulla di più o meno di quello che facevamo ieri, l'altro o faremo domani. Cioè, siamo marchigiani, conosciamo il terremoto, dobbiamo stare attenti. Quando entriamo in un posto che non conosciamo, un'occhiata alla struttura, io la darei sempre, quindi capire quali sono le colonne, dove sono le vie d'uscita, ma non per paranoia, per essere pronti. Quando andiamo in un albergo, quando andiamo in un ristorante, quando entriamo in un ufficio per fare un incontro, una riunione, un'occhiatina diamola. Perché in quel modo siamo un pochettino più preparati. Buongiorno, scusa, ma il sindacato perché organizza lo sciopero sempre di venerdì? Forse per avere più adesioni, ci dice Roberto. Anche il viceministro Salvini ha puntato l'attenzione su questo aspetto. Facciamolo, fatelo lo sciopero, ma fatelo di martedì, mercoledì, giovedì. È chiaro che facendolo di venerdì la possibilità di adesione è più alta. Lo sciopero ci sarà, ma come abbiamo raccontato attraverso il cardino nazionale, c'è anche la precettazione, il che significa che l'orario è ridotto. Sarà dalle 9 alle 13. Non è uno sciopero generale, anche perché, ad esempio, la CISL non aderisce. CGL Edwil, il vicepremier, riduce lo stop di venerdì di dopodomani di quattro ore. Dalle 9 alle 13. Landini però si scaglia contro il governo per questo sgarbo ai lavoratori. Noi andremo avanti. Già che sono sul nazionale ci resta un secondo, vi prego, tornate. È la storia di due fidanzatini, angoscia per la sorte di due ex fidanzati, scomparsi sabato il disperato appello dei genitori. L'auto era in movimento fino a domenica. Che cosa è successo? Dove sono? Insomma, la paura è tanta che ci possa essere stato un estremo gesto. Allora, mi fermo, però vi lascio in sospeso con quattro fotonews di primo piano col cardino. Le andremo ad approfondire tra poco. Lucrezia, altro articolo tosto oggi, è spari in strada. Scoppia il panico a Lucrezia di Pesaro. Un uomo esplode colpi davanti alla farmacia in pieno centro, disarmato dai carabinieri. Forse era una pistola scacciacani, ma l'effetto è stato di grande panico. Ricevitoria fortunata a Porto Recanati. È la fotonews di Taglio Centrale, ma sapete che noi cerchiamo di parlarne poco di giochi, di lotterie, perché il tema della ludopatia è sempre più serio. La droga viaggia in aereo. Questa è da Ancona. Il pacco era destinato ad un minorenne. Il cane della finanza ha fiutato il plico sospetto, è arrivato al sanzio. Il ragazzino è stato denunciato per spaccio. E poi, con la fotonews del Carlino, edizione di Ascoli, la storia bellissima e il sorriso altrettanto bello della mamma con l'alloro, le mie 24 ore super. Benedetta Piccioni si è laureata in ostetricia il giorno dopo aver partorito. La meritava ad honorem questa laurea, visto che il giorno prima aveva sparato fuori una vita. Mi devo fermare, ora breve. Dagli anni 90, la famiglia Moroni lavora nel suo laboratorio secondo antiche tradizioni tramandate da tre generazioni. In via direttissima del Conero, vendita al dettaglio di sughi pronti, porchetta, salsicce, salame al verdicchio e a rosso Conero. E tutta l'eccellenza della produzione Moroni. Oltre a miele, con selva, marmellate, olio evo, vino del territorio e pasta artigianale. Marche Salumi è produzione, vendita diretta, catering ed è regalo. Marche Salumi, per la tua azienda, per i tuoi eventi, per la tua famiglia. SEMA Tende Infissi è a Castelfidardo. Assistenza, riparazioni e vendita infissi in legno, PVC o alluminio, tapparelle e persiale. Porte da interno e portoni blindati in classe 3 con kit termico e acustico completi di pannello interno ed esterno, montaggio in giornata. SEMA Tende Infissi, per vivere il tuo giardino d'inverno. Progettazione di tende da sole, pergole e gazebo bioclima con resistenza al carico neve unici in Italia. Predisposizione per luci LED e chiusure perimetrali in PVC o vetrate. SEMA Tende Infissi è a Castelfidardo in Contrada San Pellegrino 20. Buongiorno da Etici Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come sempre ci potete seguire in televisione sul canale 12 e ovviamente anche sul nostro sito e sulla nostra app di Etivo Marche. Parliamo di economia, parliamo di sanità, messiamo sulla cronaca, la politica ora. Come vedete alle nostre spalle è appena entrata in Porto, la Geo Baret. Di nuovo insieme, cari marchigiani e cari italiane, ultima parte della nostra rassegna stampa, prima poi che dalle nove arrivi il nostro mitico Alessandro Tizzani. Buongiorno, mi chiamo Giacomo. Purtroppo ha parecchi anni, di conseguenza a Ciacchi dovrei fare un attac ad alta risoluzione per analizzare degli spessimenti fibrotici evidenziati dopo un ex toracico. Per effettuare detto esame, il 21 dicembre mi devo ricare a San Benetto del Tronto alle 19.45, abito a Senigallia, non ho più l'età per fare 240 km con la mia utilità. Le pagamento c'è posto anche negli ospedali qui intorno, come sempre. Ma con la mia pensioncina, quando ho tolto la bolletta dell'affitto e tutte le altre, non ci riesco. Proprio ieri la Regione Marche su una TV locale si vantava che siamo al secondo posto in Italia come liste d'attesa. Grazie per questa tua testimonianza forte. Noi ogni volta che possiamo vi confermiamo che purtroppo rispetto alla percezione delle liste d'attesa marchigiane i dati di agenzie di rating come Agenas sono distanti da quello che invece è il percepito. Ma abbiamo ricevuto qualche giorno fa un messaggio molto interessante perché i dati possono essere fuorviati dalla realtà. Per cui se 100 persone chiedono e solo 50 ottengono una risposta e gli altri rinunciano a chiedere proprio per difficoltà come quelle che ci ha raccontato il nostro amico, la statistica si fa solo su quei 50 e quindi si perdono dei dati preziosi. Spero di essere stato chiaro. Intanto grazie per questo tuo sfogo. Riparto dal via e riparto dal sito questa volta del Corriere. Una notizia per ogni provincia. A Civitanova, quindi per il maceratese, in consiglio la cittadinanza onoraria per l'oro olimpico e mondiale di Gimbo Tamberi. Cittadinanza onoraria per Tamberi. Tra i punti del prossimo consiglio comunale. Siete d'accordo? Si tratta dell'inizio di un iter di approvazione che durerà un paio da anni. Niente meno, ma lo meriterebbe subito. Dai, al volo. Ancona, risico dei trasferimenti per il restyling del mercato delle erbe. Le bancarelle potrebbero essere trasferite in Corso Garibaldi nel percorso che porterà al rifacimento del mitico mercato delle erbe. investito da un'auto. Purtroppo la notizia, ve l'abbiamo raccontata ieri, è successo ieri l'altro. Il bimbo di dieci anni investito da un'auto mentre andava a scuola. Ci hanno chiesto aggiornamenti. Eccoli qua, gli aggiornamenti. Migliorano, grazie al cielo, alla terra, quello che vi pare, le condizioni del bimbo di dieci anni. Non sono gravi le condizioni del bimbo che lunedì mattina, appunto ieri l'altro, intorno alle 8, era stato investito sulle strisce pedonali da un'auto condotta da un uomo probabilmente abbagliato dal sole mentre stava recandosi a scuola vicino all'ingresso dell'istituto Carlo Urbani. Per questa vicenda c'è chi, in tanti, hanno ipotizzato che al volante ci fosse qualcuno con il telefonino. In realtà l'uomo ha detto che è stato il sole ad abbagliarmi. A proposito però di telefonino, questa va approfondita. Il giornale ha fatto un focus su quante persone, un esperimento anche semplice se vogliamo, ma molto chiaro e molto importante, si sono messi a bordo strada e hanno contato le macchine guardandole con gli occhi per capire chi fosse al cellulare. Uno su cinque col telefonino alla guida. La nostra prova, dice il giornale, dopo tante multe. È bastato fare due rilevazioni ad Ascoli e San Benedetto per confermare il trend. Una settimana fa ben 75 le sanzioni. Quello che è riuscito a riportare il Carlino, per esempio, tra le immagini più forti, un camionista, quindi con un mezzo pesante e pericoloso, che stava lì a farsi una telefonata. Il cellulare è stato causa di ben 5.000 incidenti nella nostra regione nel 2021. Basta un attimo e roviniamo la vita di qualcuno, ma anche la nostra di vita. A proposito di questo, noi ieri abbiamo avuto ospite per l'associazione delle vittime di strada. Nella giornata delle vittime della strada, il Presidente. Sentiamo. Parliamo da 90, circa, morti all'anno e di 5.000 feriti. Quali sono intanto le motivazioni, le cause principali degli incidenti su strada? Da quello che emerge dai rilievi, in pratica è la velocità, la disattenzione e l'anno rispetto delle norme della precedenza e simili. C'è un dato che certe volte non neanche compare sulle statistiche, ma che sono i feriti gravi. Sui 235.000 feriti ce ne avremo 17.000 di gravemente diciamo meno madi. Parliamo di soggetti in carrozzina. Il post-pandemia è che in pratica tutte le patologie che hanno i cittadini sono state o aggravate o comunque sensibilizzate e al momento della guida queste compromettono l'intensità di dover capire il posto dove uno si trova. E questo purtroppo è una conseguenza tragica, poiché appunto il 42% degli incidenti avvengono con il veicolo singolo, cioè solo conducente e solo veicolo. Quali sono le iniziative dell'associazione vittime della strada? Chiediamo ai sindaci o alcuni sindaci, in questo caso abbiamo chiesto a Potenza Piccena, Macerata, Ancona e Pergola, l'illuminazione di un monumento il giorno 19. In più abbiamo mandato a tutte le parrocchie, cioè a tutte le curie di Macerata, Camerino, Fermo e Ancona che possano recitare in tutte le parrocchie quella giornata durante tutte le messe due preghiere che abbiamo fatto, diciamo, rilevato da un vescovo di Messina e da uno della nostra associazione. Queste le immagini anche forti ma doverose relative agli incidenti sulla strada, uno su cinque col telefonino alla guida. Spostiamoci per il riepilogone delle principali notizie con il Carlino per Ancona e provincia. Intanto, buongiorno Maurizio, noi in quattro persone paghiamo 460 euro di tari ad Ancona. Quattro persone 460 euro. Mi manca sempre, chiedo scusa, ma se avrete piacere ditemelo, mi manca sempre il dato composto, quindi il numero di persone ma anche la dimensione dell'abitazione per dire giusto o sbagliato il calcolo. Io comunque il ricalcolo lo farei sempre fare per sicurezza. Allora, perché si parla tanto oggi di tari, eccolo qua, rifiuti 250 euro l'anno di media a famiglia. Abbiamo sentito poco fa una famiglia, quattro persone, ripeto, 460 euro. Mamma santa, è uscito questo dato, Focus Market, per cui i peggiori aumenti per la Tari sono a Macerata, Pesaro e Ascoli, rispettivamente più 4% più 3,7%. Meglio fanno Urbino, dove l'aumento è del 2,1%, Ancona, dove la variazione è dello 0,1% e meglio ancora di tutte, fermo, che vedrà addirittura un calo dell'1,6%. Mandateci ancora queste informazioni, ma se avete piacere, 460 euro l'anno è tanta roba, però mandateci anche il dato delle dimensioni dell'abitazione, altrimenti non riesco ad essere preciso. La guida Michelin premia Uliassi, siamo ora al Cardino per Ancone Provincia, confermate le tre stelle, lo chef due a Cedroni, una ad Enrico Recanati, svelati i migliori ristoranti per il 2024. Post contro i sindacati? Chiedo scusa, il neopresidente di Viva Servizi è scivolato nella classica buccia di banana social, Andrea Dotti si pente, dice chiedo scusa, ma si parla di insulti gravi, si dimetta subito, aveva definito pagliacci e buffoni i rappresentanti dei sindacati. La droga che viaggia in aereo, il pacco per un minorenne, il cane della finanza fiuta il plico sospetto arrivato al Sanzio, ragazzino denunciato per spaccio, avete capito nel Lanconetano. Ricevitoria fortunata a Porto Recanati, ma tra le altre notizie che ritengo siano più utili, scossa forte, pomeriggio di paura, terremoto magnitudo 4.0, epicentro nel Fermano, la terra ballata anche nel Maceratese, abbiamo già raccontato come ci siano state poi nel corso della serata e questa mattina all'alba altre scosse ma assai di più lieve entità. Volevo raccontarvi anche però questa storia che viene pubblicata a pagina 17 per una multa legata ai nostri amici a Quattro Zampe, multati per il cane in spiaggia. È ingiusto? Ora faremo ricorso. Siamo a Porto Potenza, coppia di turisti ha ricevuto la notifica della sanzione 214 euro, ma loro non molleranno, sono pronti ad andare in tribunale. Giovedì ci è arrivata una multa, conto 214 euro, l'abbiamo ricevuta il giorno prima che scadessero i tre mesi di tempo previsti per la notifica, pure oltre al danno dunque la beffa. Quella mattina erano andati nella spiaggia libera dietro all'ex Babalù di Porto Potenza con il loro beagle bella, legata al guinzaglio e sotto l'ombrellone. Si parla di un episodio che risale al 16 agosto ad agosto, cani in spiaggia, non si potrebbe. Gli agenti avevano multato i due turisti perché il regolamento comunale vieta l'accesso ai cani in spiaggia. Tuttavia la vicenda aveva fatto molto rumore, la coppia aveva affermato che non sarebbe più venuta in città. Era diventata anche una questione turistica. Faranno ricorso, ci sono dei periodi dell'anno dove i cani possono andare in spiaggia e altri purtroppo no. Ci sono anche spiagge attrezzate e altre invece no. In quel caso purtroppo no e quindi la multa sarà difficilmente contestabile. Anna Maria, buongiorno. Noi Falconara Marittima, due persone, 442 euro. È una cosa esagerata. Grazie cara Anna Maria, ma anche qui mi manca il dato dei metri quadrati. Qui invece avevo solo il dato dei metri quadrati, non del numero di persone. Sono arrivate due persone. Mamma mia, in che zona però? Non mi scrivete la città. Ah no, Falconara, chiedo scusa. Falconara, 65 metri quadrati, due persone, 292 euro di tari. Troppo, concordo, concordo. Io farei un calco, anche perché la casa, onestamente, piccola ma sincera, ma è piccolina, 65 metri quadrati, due persone, 300 euro di tari. Mamma santa, mamma santa. Completo il quadro dei giornali e poi ancora qualche pagina interna. Il Carlino, pesarese, la vicenda di Lucrezia, un uomo esplode, colpi di pistola, forse una scacciacani davanti alla farmacia, disarmato prontamente dai carabinieri, forse appunto era una scacciacani, ma potete immaginare il panico. Il placcaggio dei carabinieri a Lucrezia, in via Flaminia, davanti alla farmacia Sella. Taglio alto, la fidanzatina dice no al rapporto sessuale. Lui allora l'aggredisce e la violenta condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. Succede appunto a Fano. E poi il calcio, abbiamo detto di Castori che ha sostituito Viali e dice siamo pronti, ci salveremo ad ogni costo, ma se è fatto male Nestorowski, terremoto anche all'alba, Scorsini lascia la panchina, rottura tra il tecnico e la società Granata. Il sito del Corriere. Per una notizia per ogni provincia, ripartiamo da Pesaro, ubriaco perde la testa per un tatuaggio della fidanzata, la picchia e la violenta e viene condannato. Ascoli Piceno, vandali di nuovo in azione a San Domenico, infrante le finestre dell'ex liceo Trebbiani alla Piazzarola. Ecco un'immagine, proseguono gli atti teppistici nel complesso di San Domenico. Da Ascoli a Macerata e provincia parla con la sua ex e lui allora per tutta risposta a Civitanova l'accoltella per gelosia. L'imputato patteggia un anno, aggredì un'albanese a coltellate perché? Perché lo aveva visto parlare con l'ex compagna. Ieri un 46enne originario di Torre del Greco ha patteggiato un anno di reclusione. Il fermano e la vicenda del bimbo lasciato dal bus davanti a scuola, ancora chiusa. Il bimbo che fa? Vede tutto chiuso, otto anni, torna a casa a piedi rischiando di... insomma rischiando, non dico rapimenti, investimenti perché non voglio dare dettagli ancora più gravi. La storia è già triste di suo. Un servizio a rischio a Montegranaro fa discutere il caso del bimbo di otto anni, lasciato lì dal bus davanti alla scuola, ancora chiusa, e poi costretto a piedi. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, ora la vicenda è al centro di una botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Stessa ora, stesso ladro, in azione colpo bis al Maxi Bar di Ancona, ma io ora so chi è. È la stessa persona, giura Massimo Sturani. Il ladro seriale è tornato a colpire al Maxi Bar. A distanza di due settimane si è ripresentato di notte attorno alle due nei locali di Via Maggini. Tanti messaggi. Ciao Maurizio, Civito Navamarche, 3 persone 740 euro annue. 3 persone 740 euro annue. Invitami nel tuo castello, non è possibile, 740 euro all'anno di Tari, a Civita Navamarche, incredibile. Fai fare il riconteggio, fai fare il riconteggio onestamente. 460 euro, 4 persone 100 metri quadrati più garage 30 metri quadrati. Da Ancona, ecco, 4 persone 100 metri quadrati più garage 30 metri. Anche il garage incide, attenzione, 460 ci può stare. Adesso mi prenderò un improperio. Stelisce pedonali e telefono alla guida. Corridoni, a zona centro. Quando mi fermo, le persone meno giovani addirittura ringraziano, tanto è la disabitudine. Facciamo attenzione a queste norme che possono addirittura salvare delle vite. Saluti e buongiorno da Pierluigi. Grazie Pier per questo tuo messaggio. Cambio un po' zona, argomento e tema e vi porto sulla questione, sì, no, il tema è quello della Tari, perché in tanti mi state anche segnalando come è possibile, non è giusto, eccetera. Allora, facciamo il servizio che riepiloga un pochettino tutto, perché a calcolare certe cifre e poi dire nelle marche abbiamo la Tari più bassa d'Italia. Mi scrive un amico di Civitanova, tre persone, 740 euro l'anno, altro che Tari più bassa d'Italia, eppure sarebbe così. Nella regione Marche la spesa media per la tariffa per la tassa dei rifiuti si attesta ai 250 euro a famiglia rispetto ai 320 della media nazionale. Quindi è una buona notizia, siamo la regione dove le famiglie spendono meno per la raccolta e gestione dei rifiuti urbani, ovviamente. Nonostante un aumento del 2% rispetto all'anno scorso, nel 2023 la spesa per la Tari nelle marche è la più bassa di tutte in Italia. L'osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva conferisce un primato alla nostra regione dove si spendono fino a 70 euro in meno rispetto alla media nazionale. Ad irrobustire il risultato i costi sostenuti dalle famiglie di fermo, 196 euro, e Macerata 219, città che si collocano rispettivamente al terzo e al settimo posto nella top 10 dei capoluoghi italiani più economici. A fermo la tariffa si riduce dell'1,6% rispetto al 2022, a Macerata invece aumenta del 4%. Sono più alti i costi ad Ancona, 297 euro, Pesaro 285 e Ascoli Piceno 234. Insomma, niente a che vedere con quei 594 euro annui di Tari che si pagano a Catania. Accanto alle buone notizie per i marchigiani, però cittadinanza attiva riscontra alcune criticità. È un'ottima notizia riguardo alla spesa che non va proprio di pari passo su quello che invece è il sistema di gestione dei rifiuti a cui dovremo tendere come per legge, cioè un sistema unico di rifiuti non più frammentato e rispetto anche a una situazione impiantistica che vede ancora una grande e non positiva presenza di impianti di discarica. Questo è il quadro ed è anche per questo che i costi sono in alcune zone veramente elevati. Buongiorno, 100.000 euro a dosimo per i festeggiamenti del Natale mi sembra eccessivo. Il Natale si festeggia in altro modo con religiosità, non con sfarzosità. Grazie all'amico Galassi che ci scrive il 16 dicembre la mitica Cristina D'Avena, un quadro complesso di 100.000 euro a dosimo. Ho chiesto cosa ne pensiate per Osimo e per altre città. In tanti stanno commentando. Buongiorno Maurizio, poi ti rispondo io da solo. Pago 406 euro di tari l'anno, contano i metri della casa e 50 euro a persona. Ciao, grazie all'amico Andrea Giorgetti che tra l'altro è diversamente abile e quindi ha problemi di deambulazione in casa, anche di produzione, quindi di rifiuti e quindi nonostante tutto, costi elevati, la gestione della sua salute in un mondo perfetto, mi permetto Andrea, per le persone nelle tue condizioni certe tasse dovrebbero essere assolutamente evitate o abbassate, ci dovrebbe essere un codice, uno sconto per chi è diversamente abile, in che mondo ci troviamo a vivere. A proposito di in che mondo ci troviamo a vivere, da Pesaro, questa l'ho tenuta onestamente da parte fino a che non fossi certo che i giovani, i giovanissimi, i piccini soprattutto, fossero in altre faccende affaccendati. Pesaro, attenzione, poi la inoltreremo anche al collega Alessandro Tizzani, un ganese fa sesso con capre e galline. Il proprietario degli animali lo denuncia e lui patteggia, patteggia sei mesi, cioè ha patteggiato, avrebbe ammesso le sue responsabilità. Una storia che ha dell'incredibile. se non fosse che ha portato un uomo a processo davanti a un giudice, l'accusa di violenza sessuale nei confronti di galline e capre. Ieri l'imputato ha patteggiato la pena e la storia, per quanto assurda, di un ganese di 27 anni e di un processo che rischiava di chiudersi perché lui risultava irreperibile. Te credo, chi va in tribunale per affrontare queste accuse avrebbe fatto sesso con capre e galline, successo a Pesaro. Lui patteggia sei mesi, ha patteggiato sei mesi, quindi avrebbe ammesso. Se avete commenti anche su questo, 349 39 18 169. Già che ci sono, completo un po' il quadro delle altre notizie online. E allora, non solo telecamere, arresti per droga a Porto Sant'Elpidio, ferito anche un carabiniere. Terremoto nel Fermano, quello che abbiamo vissuto ieri. Il comune di Amandola ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, questo per motivi precauzionali. Garantire sicurezza e incolumità in seguito alla scossa di terremoto magnitudo 3.9 che il 14 novembre ieri ha colpito la zona del Fermano. Confermo ad Amandola. Scuole chiuse. Saccheggia la chiesa e ruba le offerte, ma il parroco lo assolve al processo, dicendo invoco la misericordia di Dio. E per questo l'uomo è stato liberato. Bimbi a scuola il sabato o weekend libero? È una discussione in corso a Marotta. I genitori si sfidano in un referendum sulle web. Poco fa ho ricevuto un messaggio su questo. Cerco di recuperarlo. Se ce la faccio, e c'era una riflessione interessante, però non lo recupero purtroppo. Proverò a farlo dopo il break. Buongiorno Maurizio. Questa resta purtroppo una notizia mitica. Civitola Vavar che tre persone 740 euro hanno. E poi, ma chi l'ha fatta questa inchiesta? Monte Urano, provincia di Fermo. 490 euro annui per due persone, una casa di 200 metri quadrati. Insomma, Giampiero, intanto un abbraccio e grazie per la tua testimonianza e la tua trasparenza. Certo, 200 metri quadrati, considerando che la metratura della casa è una voce in capitolo importante. 490 euro, siete in due. Insomma, purtroppo mi pare che ci possa anche stare. Adesso ti arrabbierai con me, ma queste sono un po' le riflessioni a caldo che mi sento di fare. Parleremo anche di Yannick Sinner, che ha battuto Djokovic a Torino. Sono onestamente contentissimo da tennista amatoriale. Non vedevo l'ora che arrivasse finalmente questo momento per Yannick. Il meteo, facile facile. Il tepore che state provando in questi giorni proseguirà fino a domenica. È l'estate di San Martino. Rispetto a chi ci dice, ma questi terremoti sono anche dovuti al caldo anomalo, caldo fuori stagione. Non c'è scientificamente la prova di questo. Intanto confermo l'ultimo fenomeno stamattina alle 5.07 minuti. Magnitudo 2.9, zona Montecavallo nel Maceratese. Brexit. Sapete dove iniziano gli allenamenti della Nazionale? In cucina! Sono Matteo Pincella, nutrizionista della Nazionale Italiana di Calcio. Ho scelto Fileni come fornitore di carni per la qualità e l'equilibrio dei suoi prodotti. Prova anche tu il gusto Fileni. Fileni, fiducia e impegno. Caldaia Sicura riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima. VST Tecnologie Riparazione smartphone, tablet e computer e vendita a dispositivi ricondizionati con uno o due anni di garanzia. VST Tecnologie partecipa alla piantumazione di alberi per compensare le emissioni di CO2. Ci trovi a Dancuna in via Maggini 51. DST. Dai nuova vita alla tua tecnologia. L'azienda agricola Angeli di Varano c'è il reso чисlo di lavoro demain. Per questo Natale vi aspetta nell'unico punto vendita in via Papa Giovanni XXIII 65 a Camerano. Potrete personalizzare i vostri pacchi natalizi con prodotti a chilometro zero di altissima qualità anche con servizio di consegna a domicilio. Ampia scelta tra panettoni e cioccolatini artigianali, vino, grappa, olio e tutti i nostri articoli a base di lavanda. Sorprendi le persone a tecare, angeli di Varano, regali unici che raccontano piccole e grandi storie del territorio. Impegno Passione Competenza Non farti stoppare dalla burocrazia, dalle norme, dall'incertezza del futuro. C'è una nuova squadra in città. Confartigianato è in campo, con noi, con voi, per fare canestro anche nella vita quotidiana. Unisciti a noi, scendi Confartigianato. Sema tende in fissi e a Castelfidardo. Assistenza, riparazioni e vendita in fissi in legno, PVC o alluminio, tapparelle e persiale. Porte da interno e portoni blindati in classe 3 con kit termico e acustico completi di pannello interno ed esterno, montaggio in giornata. Sema tende in fissi, per vivere il tuo giardino d'inverno. Progettazione di tende da sole, pergole e gazebo bioclima con resistenza al carico neve, unici in Italia. Predisposizione per luci LED e chiusure perimetrali in PVC o vetrate. Sema tende in fissi. È a Castelfidardo in Contrada San Pellegrino 20. Di nuovo insieme, cari marchigiani, cari italiani, ben ritrovati, ben ritrovati. Maestro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Salutiamo anche coloro che seguono la nostra rassegna stampa nazionale sul Canale 17, la collega che si occupa di giornali nazionali con grande, grande competenze e professionalità. Poco fa seguivi il programma mentre noi parlavamo dell'episodio che ti voglio subito inoltrare, caro maestro, perché io faccio fatica a capire certe notizie, ma tu hai la lucidità e la competenza per aiutarmi a capire cosa sia successo a questo ragazzo, un ragazzo di 27 anni che a un certo punto ha deciso... Da balla coi lupi a balla coi polli. Balla pure con le capre, così pare, insomma, succede a Pesaro, la notizia è confermata sui giornali, per cui sai che l'hanno tolta? L'abbiamo letta poco fa, l'hanno tolta. Praticamente un ragazzo avrebbe avuto un innamoramento con capre e galline. E' possibile? Ma allora... L'ho recuperata. L'hai recuperata? Sì, eccola. Una cosa che mi tocca commentare. Maestro, non so se neanche a livello meccanico... Ma lo so, lo so... Tu che sei un uomo di mondo. È un rischio. No, allora, è una patologia, sì sì è una malattia, è una pervezione che comunque c'è sempre stata. Ah sì? Con gli animali, non ti sto a fare nomi. Sarà meglio, ma come nomi? Non posso fare... E anche personaggi storici importanti del mondo hard, giravano le voci con... Sì sì, è proprio una cosa di perversione, ovviamente. Quindi è proprio una malattia, è una malattia, è come c'è il feticista dei piedi, quindi il feticismo, in questo caso rientra nelle perversioni assolute e è una forma di perversione diffusa, perché non è la prima, con i polli non l'avevo mai sentita, però comunque con gli animali, con gli equini, con i cani... Secondo me questa qua se la sente Cruciani... Ma ci sono anche barzellette, no? Sul pastore che... Non la so la barzellette. C'è un controllo dell'ASL che va dentro praticamente da un contadino e questo qui va lì e praticamente per far il controllo tutto a posto, allora per divertirsi un po' un attimo perché era una visita, però la fattoria andava benissimo, allora lui siccome era un ventriloco per fare uno scherzo, per fare un gioco al contadino che andava bene, questa è una barzelletta e allora si avvicina al gallo e gli fa, parlando, capito, prende la gallina e gli fa al contadino ma lei non lo sa, ma i suoi animali parlano, e quello dice no, i miei animali non parlano, adesso vediamo, ora va dalla gallina e fa scusi signora gallina, lei con chi fa l'amore? Con il gallo! E il contadino dice ma porca miseria, non sapevo che la gallina mi parlava, ovviamente lui era un ventriloco, allora va vicino praticamente al coniglio e... Poi arriva davanti alla pecora e gli dice scusi signora pecora, lei con chi fa l'amore? Non ci dia retta, che bugiarda! E questa rientra! Potrebbe essere questa un po'... La chiave di lettura! La chiave di lettura, hai detto chiave non a caso, siccome Cruciani, saluto della zanzara, potrebbe essere interessato ad approfondire questa storia. Beh non approfondiamo certe cose! Buongiorno al mestru Tizzani, sembra che il ragazzo ganese sia stato denunciato perché le ha sedotte e abbandonate. Fabrizio D'Ascoli, ti prego capre galline, volevano almeno che gli lasciasse un recapito. Ciao D'Ascoli! Sicuramente gli voleva bene questi animali, troppa cura! Allora ho citato poco fa una bella trasmissione, quella che il nostro canale 17 trasmette, ecco qua la prova che mentre noi sul 12 parliamo di Marche, la nostra collega là sul canale 17 parla di notizie nazionali, infatti si commentava di Sinner. Yannick, ma anche noi adesso si parliamo. Ne parliamo, parliamo di Sinner maestro? Sì, ieri l'hai visto. Sinner, l'hai vista? Goduria, totale. Sì, sì, a me il tennis non piace, e anche un po' noioso, ma io non sono esperto di tennis, ma ieri... Perché non capisci il gesto tecnico? No, no, ieri ero sul divano e dico voglio vedere se riesco a non addormentarmi, perché quando è iniziata la partita si palleggi, poi ovviamente si gioca a Torino. Ma quello era il riscaldamento, ti sei confuso? Sì, poi era a Torino, in quel posto dove la Juveggio si ha presentato i suoi cento anni da famiglia Agnelli, quindi sta molto vicino e quindi siccome è un italiano che gioca col primo del mondo, io Djokovic lo seguo come Nadal e Federer, che sono questi riferimenti, poi Sampras, ti faccio una lunga lista di nomi, Agassi, che nella mia testa ci sono da quanto tempo vedevo il tennis, perché comunque il tennis è uno sport affascinante, devo dire che prima era anche più divertente, però quella partita che ho visto ieri è stata una partita mostruosa di Sinner, perché ha dimostrato, quest'anno gli riviene tutto, perché ho visto dei colpi incredibili, ma la forza di quel ragazzo non è la grinta come dicono quelli, è la concentrazione e la calma, perché anche Djokovic ieri si è nervosito, si è nervosito tutte le partite. Il pubblico ha giocato chiaramente dalla parte di Sinner. Anche se in teoria nel tennis non si deve tifare. Mamma mia, mamma mia. Non si deve tifare, però come fai? Ti giochi in casa? Sì, anche Djokovic tra l'altro ha fatto il gesto, vedi? Sì, si è anche arrabbiato Djokovic durante la partita diverse volte, soprattutto con il pubblico e sarebbe presa un po' con l'arbitro che era donna. Ecco, fischi, provocazioni, il gesto di dirigere l'orchestra, la battaglia di Djokovic contro Torino, lui dice me lo aspettavo che il pubblico avrebbe fatto così, ma d'altro canto è contro l'italiano. Ecco, io voglio vedere se faceva l'ATP in Serbia e se giocava Djokovic cosa succedeva. Detto questo, bellissima partita, veramente mi sono anche emozionato nella parte finale quando ha vinto, perché non aveva mai vinto con Djokovic, quindi Sinner quest'anno l'ha battuti tutti. Era ora che Djokovic perdesse, dice questo nostro amico. Però, attenzione, attenzione amici, ha vinto una partita, non la guerra, perché adesso deve fare altre partite, ma Djokovic non è fuori, perché passano i primi due, quindi in caso che arrivi al secondo te lo trovi in finale e lì dopo la finale le gambe fanno un altro effetto. Allora, avviso a tutti i decoratori natalizi prematuri, calmatevi, Maria non ha ancora detto a Giuseppe di essere incinta. Sì, c'è chi effettivamente parte presto. Ci sono anche un po' di polemiche sui giornali di oggi, perché qualche comune avrebbe speso troppo, altri un po' poco, insomma se uno spende troppo dice sprechi i soldi, se spende poco non celebra degnamente il Natale. Per esempio Osimo oggi sui giornali 100.000 euro per Cristina D'Avena e non solo, per diverse iniziative. 100.000 euro per il Natale di Osimo. Beh, bisogna vedere se ha... non è tanto quanto uno spende, ma è quanto poi la città risponde e diciamo i turisti vanno in quella città a spendere poi i soldi, ok? Quindi di fatto se crea un... con 100.000 ne porta un milione e più il gioco è quello, cioè i negozianti sono molto contenti. Poi sono iniziative natalizie, sono iniziative attrattive. Cristina D'Avena sicuramente è un ottimo... Ti piace? Andrai a vederla Cristina? Più che altro fa sempre... che poi era anche un parente di un nostro collega che non c'è più. Sì sì, ha parentele nelle Marche. Nelle Marche sì sì, la conosco nel senso che anche il comune d'Ancona l'ha chiamata diverse volte che si è in Avena. Tu mi sai qualcosa, giusto? Sì sì, qualche volta me la sono trovata accanto quando si facevano cose tanto carine. A Falconara col Falcomics, quindi praticamente c'è un bel pubblico che segue, poi sono canzoni che si sposano bene con il Natale perché sono... e ci puoi portare i bambini, quindi è un'ottima scelta. È fatta proprio per le famiglie, quindi il Natale per le famiglie invece che... è un'ottima scelta. Poi non discuto sul prezzo perché bisogna vedere nei 100.000 euro cosa c'è perché bisogna analizzare bene tutte le proposte per dire se è troppo o non troppo. Allora c'è una grande, grande quantità di messaggi messo sul tema Tari. Tari! Tari Tara, esatto. Allora viene fuori anche da un servizio della nostra emittente che le Marche sono un po' le più fortunate d'Italia o meno sfigate, nel senso che... paghiamo la Tari più bassa d'Italia. Affermo addirittura 196 euro di media annui, questo per subito cercare di sgombrare un po' il campo delle polemiche, ma non è vero, io pago di più, eccetera. È una media. Sì. Poi però arrivano testimonianze come quella del nostro amico di Civita Navamarche, per tre persone 740 euro annui, tant'è che io gli ho chiesto ma dimmi quanti metri quadrati più o meno perché stai in un castello. Altre testimonianze che ci danno proprio preciso quello che è il percorso, per esempio Falconara, due persone, 442 euro, dice Anna Maria, una cosa esagerata. Qui mi sono permesso, però Anna Maria non mi ha mandato il messaggio. Quanti metri? Però perché i metri incidono tanto, eh? Tu ti ricordi quanto paghi? No. Per esempio Matelica, paghiamo 250 euro, siamo in due, 100 metri di casa più 25 di garage e anche il garage conta. Sì. Per cui qui 250 euro l'hanno in 200 metri quadrati. Te lo dico subito. Ci puoi anche stare. Vai a controllare il tuo tabellino? Sì, sì, ho pagato. Vado a vedere se... Prima rata Tari. Ecco da qua. Te lo dico subito. E poi intanto Fermo, anzi Monte Urano, provincia di Fermo, 490 euro annui, due persone, una casa di 200 metri però e quindi questi 200 metri un pochettino inevitabilmente incidono. Ma è la somma totale 196 o è la rata alla media? Totale, all'anno? Tu di più? Ma adesso te lo dico perché... Quanti sono le... No, l'ho trovata. Guarda che bello, guarda il porto di Ancora. Io non mi ricordo, so tre rate di Tari? Puoi decidere, no, mi pare di pagare... Un'unica soluzione oppure io... Ho due rate, ma dipende anche da alcune, dipende anche da alcune, ancora due rate. Sai che mi è venuto il dubbio di quanto spendiamo? Allora, io ho pagato la prima rata a 109 euro, sono tre rate da 109 euro. Quindi? Quindi fai la somma, so, 327, 337 euro. Ho casa, lo potete verificare, di 69 metri quadrati netti con un ripostiglio, un piccolo ripostiglio di sotto di... Non c'è il garage quindi? No, io non c'ho il garage, c'ho, diciamo, il parcheggio condominiale dove all'interno del carriera c'è, sono delle stanze, un ripostiglio e io sono io, mia moglie e Lorenzo di due anni. Quindi questo è quanto è. Quindi, nelle 196 euro di media, io a Falconara con 70 metri quadrati per fare una cifra metti, perché poi saranno 80 lordi per la visione, perché ci sono i muri, so, perché... E i muri non fanno immondizia? Eh no, no, 80 metri quadrati te lo mettono, con un ripostiglino, 307 euro, quindi 324 euro, 109, se sono tre rate, perché mi ricordo tre rate, perché infatti... E quindi chi le paga? Le paga la tua signora? No, le pago io, ma poi siccome le... Sai come devi far? Te le devi accantonare, tutte le volte me le perdo, mi metto per i me, adesso stavo cercando la seconda rata. L'hai pagata? No, ancora devo pagare, perché ti so, ci scrivo prima di tre, seconda di tre, perché... Se sono tre, la seconda sei fuori. Eh vabbè, ma adesso la pago, mi sono ricordato, grazie che mi metti ricordati. Vedi, vedi, allora l'altra... Perché? Non l'ho pagata tutto in blocco. L'altra da Falconara, 110 metri, quindi una casa quasi il doppio della tua, tre persone, come te, 424. E porta. I rifiuti li fa la persona, non i metri quadrati, si sfoga l'amica Graziella, questo è vero, è un cortocircuito che c'è da sempre sul tema dell'Atari, che c'entra quant'è grossa la casa, se uno è da solo, la casa di 300 metri, che c'entra? Ha ragione. Però a 324 siamo in linea, se vai a vedere. La casa è tanto più grande però della tua, eh? Sì. Se tu paghi 327 con 70 metri, questa 110, paga 424, questa signora sono in tre. Eh, dicevo, siamo in linea. Paghi troppo tu, secondo me. Per me sì. Rispetto a questa signora, tu paghi troppo. Pago di più. No, siamo in linea. No, siamo in linea con il prezzo che ti ho detto io sui 324. Se lei paga 424, quindi è plausibile che la mia è sui 350 o 320 o 300 minimo per 60 metri quadrati per tre persone, cioè due persone, cioè quello è il ragionamento. Se sei da solo, io non mi ricordo. Per me a paragone tu... Io mi ricordo che non l'ho pagata tutti insieme perché era comunque 324, poi dopo c'era l'Enel, il gas e la luce, tu sai cosa faccio? Le spacchetto e buonanotte. È un tema, è un tema. Maurizio, te dettagli mi hai pagato il supplemento Pampers. Buona giornata da Mimè. Ho fatto montagne di... non mi ricordo, anche perché queste cose le cura la mia dolce signora, confesso, io non sono capace ci pensare. Io do solo una manina per quando serve. Intanto ci salutano e ci dicono viva Cristina. Beh, insomma, Cristina d'Avena sta per arrivare... E poi non fa male l'Avena, un ciliare che non fa male. Va come fa bene, va come... A casa Cristina d'Avena? Sì, Cristina d'Avena... Ho capito, c'era una sessantina d'anni, Cristina d'Avena, io bim bum bam me la ricordo... Si tiene bene, perché vive ancora nel mondo... Di cartoni animati. Amatissima tra l'altro dal pubblico di ogni generazione, Cristina è sempre stata famosa per avere, insomma, questo... questa grande capacità musicale dovuta alla sua cassa toracica importante, per cui ecco qua ci scrivono, insomma, non esageriamo ragazzi... Allora, l'anno scorso pagavo 107 di tali... Il 16 dicembre... Sono tre rate... Tre rate... Tre rate... L'anno scorso pagavo 107... 107 per tre... Per tre... Quest'anno 109 per tre... Quindi è aumentata di... 2 euro... Ma la domanda è... Ma se uno fa la raccolta differenziata fatta bene, tutto bene, non doveva pagare di meno perché la nascita, la raccolta differenziata stava nel fatto che se noi riciclavamo tutto è bene, quindi chi è più riciclava è meglio e meno pagava e se vado a vedere mi costa sempre più... Perché, perché, perché? Dov'è la fregatura? Allora, effettivamente... Buongiorno intanto al nostro Diego... Effettivamente prima mi è arrivato un messaggio illuminante, uno che ci ha scritto, un amico... Ricevo la... Ricevo la corrente e pago, giustamente... Ricevo il riscaldamento e pago, giustamente... Ricevo un servizio e pago... In questo caso sono io a dare i rifiuti che se gestiti bene possono essere una risorsa... Certo... Se ben differenziati, riciclati, eccetera... Perché devo pure pagarci sopra? Giusto... Ma la domanda nasce spontanea... Perché... Allora, vedrai come la gente ti ricicla bene se te non fai pagare a Tari... Ma ci sono alcuni paesi... Alcuni paesi del nord Europa dove è quasi azzerata la tassa dei suoi rifiuti proprio perché si riesce a recuperare al massimo... Tizzo, te le rate come tre? Per me sono sempre state due... Infatti sta storia delle tre rate... Ma tu sei sicuro? Guarda che rischi, maestro, rischi... Ma guarda, io adesso vado a vedere... No, no, aspetta, anche da noi tre rate... Ho pagato la prima rata 83 euro... Perché la prima... Anche Matelica... La prima ad agosto... Cioè lì c'è la possibilità... Adesso non mi ricordo bene perché... Ad agosto c'è la prima rata... La prima scadenza... Poi scegliere di fare un unico pagamento... In un blocco solo... E oppure dividere le rate... Che mi pare che è agosto... Novembre... Adesso non mi ricordo... Però sinceramente... Adesso non vorrei di una fragnaccia... Però comunque... Sono sicuro... L'ho visto prima... Non ho scritto prima di tre... Perché poi dopo se ti chiedono i pagamenti... Mio papà era preciso... Ce l'aveva tutti nel cassetto... Io cerco di mandare su per email... Ma poi mi confondo... Perché una volta la mando... Nella televisione... L'altra volta la mando in personale... Tutte le volte non me la ritrovo... Quindi sono sicuro... Che io a rata... Ho pagato 109... E l'anno scorso 107... Vi faccio vedere... Se la volete... Ve la mando anche su Whatsapp... Allora... Wendy... Assaggia queste olive... So greche... Un'altra scena... Questa viene da ieri... Ieri abbiamo parlato... Della simulazione o presunta tale... Di Turam... Anche qualche amico interista... Non è rimasto contento di questa chiave di lettura... Il tocco c'è... Però la caduta sembrava un po' eccessiva... Allora avevamo tirato fuori Mario Brega... Con il suo famoso... Ariarsete... Ariarsete... Oggi... Memori della giornata di ieri... Assaggia queste olive... So greche... C'è la scena... Con Carlo Verdone... Con le guance piene di queste olive greche... Che il buon Mario... Buttava dentro la bocca di Carlo Verdone... Vuoi che te la vada a recuperare? Anzi... C'è pure 16 euro... Di tassa... Quindi l'anno scorso... In un narrato... Pagato... Adesso si è incastrato con le sue tasse... No no... È 127... Perché ci sono 16 euro di... Di multa... Perché la paghi per tre... Sarà una multa... Hai preso la multa... Lo stai dicendo in diretta... No no... C'è scritto... Guarda... Io adesso... Non c'ho niente da nascondere... Ti dico... Qui c'è scritto... C'è tutte queste sigle... Perché poi l'ho pagata... Con il D40... Capito... Tutte quelle sigle... Perché... Se la paghi... Intanto scusa Mesto... Ma qui c'è il capolavoro... Vai... Che c'è stato... Com'è che si vede così male? Ecco... Diamo un po'... Che è... Senti sto pesciuto... Senti come... Eh ho mangiato... Senti ho mangiato... Ho mangiato... E' il zucchero Sergio... Lo senti? E sto riva... Senti sto riva... Questo è so greco... Prima gli dà il dolce... E' il nome... Dai... So greco... So buone... Come so... Ti la verità... So greco... So greco... E vabbè Mario... Grande Mario Brega... Così torniamo alle nostre cose... Maestro... Maestro... Ciao... Dall'amico Boris... Da Ombretta... Buongiorno... Tanti da Falconara maestro... Noi due persone... 442 euro... Una cosa esagerata... Questa questione... No ma la domanda è... So le rate... Perché questo è il dubbio... Che c'è... Sono due... Sono tre... Puoi pagarle... In tre rate sono due... Perché c'è qualcosa che... Non mi può... Nella mia mente non mi torna... Nel senso che... Una si pagava... Tante cose non ti torna... Ma quello lì... Quello... Perché adesso non mi torna... Anche l'acquitanza di pagamento... No l'ho pagata... Di fatto stai confessando in diretta... Che sei un evasore fiscale... Questo lo vogliamo dire... No io l'ho pagata la tassa... Per errore... Per errore... Io l'ho pagata la tassa... Ma non mi ricordo se ce l'ho pagata... Non ti ricordi a chi... No l'ho pagata il comune... Ad agosto... Con scadenza ad agosto... Adesso non mi trovo... Quando è che scade la rata... La seconda rata... Se c'è la seconda... C'è la terza... Secondo me è scaduta... Perché... No perché se hai due rate a dicembre... Sarà una ogni quattro mesi... No se la seconda... Se sono due rate... Sarà sicuramente a dicembre... Se sono tre rate... Molto probabilmente sarà agosto... Ottobre... Dicembre... E quindi sto dietro di 15 giorni... Ma essendo novembre... Aiutatemi... Ad ascoli tre rate... Tre rate... La Tari... Mense... Scuole primarie... Ascoli picciano... Più cara della regione... Marche... Insomma... Qui c'è purtroppo una gara al rialzo... Ai me tra chi paga di più... Infatti si paga così poco... Perché differenziamo e ricicliamo bene... Se no sarebbe addirittura più cara... A Daie... Poco pure... Ci ha scritto un amico di Civitanova... In tre paga 700 euro di Tari... Se è poco... Non lo so... Ma io credo che... Se tu... Recicli le bottiglie... Come facciamo noi... Adesso poi c'è la normativa... Che i tappi non si possono più raccogliere... Ma i tappi vanno allegati... Alla bottiglia stessa... E chiusi... Questo cambia molto... Anche nella nostra raccolta... Nella raccolta... Quindi praticamente... Non è ancora diventata definitiva... Io mi ricordo... Sì... Io mi ricordo quando ero piccolo... Che raccoglievamo... Le bottiglie di plastica... Che c'era una notte azienda che non dava... Ci davano dei punti... Dei bollini... E poi ti davano gli astucci... Ti davano i pennarelli... Non so se funzionava anche così... Qua ad Ancona... Io mi ricordo che a scuola... Li raccoglia... Anzi... Io buttavo proprio le bottiglie di plastica... Direttamente là... Per prendere poi un pennarello... E... Dovrebbe essere una risorsa... E... Di fatto... Il principio è che... Se io sono... Una persona che raccoglie... Fa differenziata... E... È giusto che non... E la faccio bene... E quindi è un impegno... Va bene che per rispetto dell'ambiente... Tutto quello che vuoi... Però va puniti... Chi non fa la raccolta differenziata... Quindi va... Fatte delle sanzioni... E quelle sanzioni... Perché... Ci sono delle piccole telecamerine... Esatto... Per chi differenzia male... Ma chi è che fa... Chi la fa bene... E chi lo fa... E con impegno... È giusto che la tassi... La veramente... 30 euro... Eh... Buongiorno... Falconara 90 metri... 330... Tutti da Falconara pagano... Mi fa piacere... 336 euro totali... 3 persone... Potrebbe fare differenza... Anche l'ubicazione... E poi... Finalmente svegliamo l'arcano... È confermato... Sì le tre rate... Gli amici di Falconara... Ti vengono incontro... Agosto... Ottobre e dicembre... Sì... Ma non festeggiare troppo... Siamo preso... Sono in tardo... Siamo al 15 di novembre... Che te esulti... Sei in mora maestro... Sei in mora... Sei in mora... Adesso la vado a pagare immediatamente... Mi sono dimenticato... Quelle cose lì... Perché siccome io ho... Paga tutto alla banca... Sai com'è... Ti dai la fida a me... Perché non mi dico... Ci pensa alla banca... Ci pensa alla banca... E quindi poi vai a vedere... Quanto è che pago di bolletta... Se pagare la Tari servisse ad avere... Oltre che la città pulita... Manca ad avere un verde pubblico più curato... E sarei anche contenta di pagare... Ci scrivono... Ma invece... Zozzeria ovunque... Per esempio... Nella zona di Capodimonte... Segnalazione... È difficile raccolare... Capodimonte... Il mezzo non ci arriva... Ma... Allora... La raccolta dei rifiuti... Adesso... Poi ti scrivono... Maestro Tiziani... Dopo queste incertezze in diretta... Sulla Tari... Prevedo controllo a breve... Perché... Siamo amici di Falconara... Amministrazione di Falconara... Tiziani... Vuoi dare la via? No... Non la diamo la via però... Ah se ne pago tutte e due... Così mi tolgo anche il dicembre... Perché poi tanto mi scordo... Perché... Però... Sì sì no... Mi ricordo che... Non l'ho pagata tutti insieme... Sono sincero... Perché comunque era sui 324... 325 euro... Una botta secca... Poi arrivati a fine estate... Maurizio... Capito... Tu vai un attimo in vacanza... Non c'è più ossigeno... E... Ti arriva la bolletta dell'aria condizionata... Ossigeno nel senso... L'aria condizionata... Trac... Dico adesso cosa pago? E... Sì... È anche abbastanza facile... Sono riuscito anch'io a farlo col portale... Adesso... Rivado a ricostruire... Ci segnalano una dichiarazione d'amore... Di quelle vere... Caro maestro... Ovunque tu sia... Io... Ti sputarei... Fino a lì... Non è finita proprio... Non è finita proprio bene... Se ti sputo ti lavo la faccia... Ma... Sì... Sì... Insomma... Comunque tu sia... Poteva... Sembrava... Era iniziata tanto bene... E invece poi è finita... Va bene... Allora... Che dire... Quindi adesso ho scoperto che c'ho da pagare l'antari... 109 euro... Quindi mi sa che... Meglio che pago anche la seconda... No... Comunque... Sono pienamente d'accordo con le persone da casa... Un servizio da lavoro è importante... Bisogna riciclare... Tutto quello che volete... Però... Io mi ricordo bene... Perché la campagna di comunicazione ne avevamo fatte tantissime... Quando cominciò? Quando cominciò tutto... Ricordi... I secchi in studio... Il famoso... Nuove... Diciamo... Iginio... Di come è nato... Iginio... 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 Iginio è un signore... Ed il fatto della chiavetta che davi lì... Che in base a quello che buttavi... Poi pagavi... E vi discorrendo... Non è mai andato in porto... Non è mai andato in porto... Con gli strumenti siamo andati anche alle varie... Abbiamo mostrato i pannolini... Quelli riciclabili... Quelli che si lavava un pezzetto... E se c'è Juncker lì... L'app per ricordarti... E tutto quanto... Junker... Già anche tutta sta cosa... Doveva produrre... Chi... Chi... Faceva la raccolta differenziata... Veniva premiato... Veniva premiato... E... Praticamente... Andava a pagare... Meno tari... Ma invece... Non è così... Che differenza c'è... Tra uno... Che la butta... E uno che la rispa... Che uno la... Fa le cose diversificate... Perché in Italia... Il problema dell'Italia... Non è che se uno si comporta bene... Ti danni... Risolve qualcosa... Perché la gente... Quello che gli interessa... È il pecumiano... Se non ti comporti bene... Ma non ti premia... Non so se ti comporti bene... Esatto... Allora... Visto che siete entrambi sposati... La vostra moglie... Quando è entrata in casa... Con le scarpe... Ecco il video... Io qualcosa di mia moglie... Ce la vedo... Ma perché ci fate così... Che dopo... Questa continua... A spavare un macello... Allora... Non so... Io messo a cacata... Non ci entravo... Allora... Non so se a casa tua... Adesso hai pagato l'antare... Questa è tiziana... Oggi quando torna in casa... Se la tua signora ha visto... Che non ha pagato l'antare... Ah no... Aiuto... Aiuto... Altro che il Black Friday qua... Mamma mia... Non so se a casa tua... C'è la tradizione di togliersi le scarpe... Allora... Devo dire... L'unica cosa positiva... Tra virgolette... Della pandemia... È il fatto che... Comunque... Le scarpe vanno lasciate fuori... Dall'appartamento... Perché... Ci toglievamo i vestiti... Esatto... E quindi... Quella cosa mi è rimasta... Perché io prima... In passato... Entravo a casa... Semplicemente con le scarpe... Non c'è... Come fanno poi i giapponesi... Perché è una cultura... Anche in Giappone... Tu ti devi togliere... Come si fa sulla barca... Sulla barca... Perché poi gli vai a rovinare il parquet... Al signor Otto... Allora... Ma se c'è tutti questi soldi... Per promettere la barca... Lo sfriggi... Come che sia... Ti tu devi mettere appunto le pattine... E questa cosa... Diciamo... È positiva... Perché comunque... Aiuta anche... Nella meno diffusione... Dei vari patogeni... All'interno della casa... Soprattutto quando c'è bambini piccoli... E quindi... È anche una forma di rispetto... Verso l'altra persona... Tutto qua... A proposito di bambini piccoli... Ci salutiamo maestro... Con queste immagini... Tridimensionali... Human being... Not club of cells... Cioè... I bambini piccolini... Dentro il pancino... Non sono un agglomerato di cellule... Ma sono già... Vivi... Veri... Sono creature... Si muovono... Si toccano il nasino... Sbadigliano... Ma bellissime... Sì... La tecnologia ci permette cose straordinarie... Negli anni di gravidanza di Camilla... Noi abbiamo visto anche l'evoluzione della tecnologia... Le primissime foto non erano in 3D... Erano appunto le classiche foto dei cecini... Dei cetriolini... Poi nel tempo ci sono arrivate le foto in 3D... E adesso ci sono anche i video... In 3D... Dei bambini dentro la pancia... Maury... Il fiolo è nato nel 2021... E non ho visto una mazza... Ogni volta che ho fatto l'ecografia non si vedeva niente... Perché comunque... Giocava già a nascondino con te... Eh... Si girava... Quindi io praticamente dovevo interpretare... Cioè... L'interpretazione... L'interpretazione... Franco... Breck... No adesso ci salutiamo... Siamo andati... Non abbiamo parlato di calcio praticamente... Vabbè... Ci abbiamo avuto domani... Parliamo di Mazzari... Questa grande scelta del Napoli... Di prendere un allenatore... Che ha portato per la prima volta il Napoli in Champions League... Dopo tanto tempo... Che ha fatto vincere la prima Coppa al Napoli... Con il presidente Daorenzio... La Coppa Italia contro la Juventus... Una Marcordo... Una Marcordo... E dopo sette mesi... Sarà spedito a casa... Perché sicuramente... Partirà un nuovo ciclo... O arriva italiano... O arriva Conte... Grazie mille... Grazie mille... La Coppa Italia... Grazie a tutti.